Ragazzi siamo usciti dal mondiale e non la stiamo prendendo con filosofia Ci vuole calma, pagatezza e soprattutto rispetto per la squadra e per il mister Attacca me, schiavara! Bafamok, Mister Ventura Quest'estate stagionale a forma intera Una cosa ti auguriamo Che all'ospizio te ne andrai Per la conta il bannolone cambierà Sono cambiato sempre di più Per la conta il bannolone cambierà Che all'elitur Stugidemur 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 Stugidemur